Buonasera a tutti. Possiamo iniziare, penso. Oggi abbiamo con noi il professor Mario Taiuti, che è professore di fisica nucleare, professore ordinaria di fisica nucleare, presso l'Università di Genova, ma anche direttore della sezione dell'INFN. Se è sempre interessato, potremmo dire, lo leggo per evitare di avere problemi, allora diciamo se è sempre interessato nel campo della fisica nucleare e della fisica astro-particellare. Oggi ci parlerà di neutrini, lo vedete anche dal testo, dalle profondità dello spazio agli abissi del mare, il lungo viaggio di neutrini. Neutrini sono particelle che ci possono dare molte informazioni, molte più forse di altri tipi di radiazioni, ma sono molto allusivi, tanto che per studiarli bisogna studiarli in modo particolare utilizzando strumentazione anche allocata in posti un po' particolari, e credo che se proprio di questo ce ne parlerà, profondità del mare oppure al di sotto delle calotte glaciali. Quindi io penso che sarà sicuramente interessantissimo questo viaggio con i neutrini e quindi lascio la parola a prof. Sardaiù. Grazie. Mi siedo, passo di qua. Anzitutto vi ringrazio per l'invito che ho gradito moltissimo, è veramente un piacere per me essere qua. Lo tengo in mano. Allora, i neutrini sono, se vogliamo, l'ultima particella in ordine di tempo che si sta studiando, si è iniziata a conoscere. In realtà non si conoscono ancora tutte le proprietà di queste particelle, però si è capito che possono portare delle informazioni estremamente importanti su molti aspetti del nostro universo. Soprattutto saranno in grado, sono state in grado di fornire risposte a domande sul funzionamento di corpi celesti. Infatti il primo punto che vorrei affrontare è proprio il sole, perché lo studio del sole, se vogliamo, è nato all'inizio dell'Ottocento, quando si è cercato, con le conoscenze dell'epoca, di cercare di capire per quanto tempo il sole avrebbe funzionato. In effetti il sole è fondamentale per noi, perché la fonte di calore non solo, oggi lo usiamo anche con l'effetto fotovoltaico per produrre le cosiddette energie rinnovabili, quindi diciamo è un oggetto estremamente importante. Però per le conoscenze dell'epoca, i fisici dell'epoca, in particolare Lord Kelvin, aveva stimato la vita del sole in circa 20 milioni di anni, che in realtà è una durata estremamente piccola, estremamente breve, ed era andata anche in crisi con le scoperte contemporanee, sempre a questi modelli formulati da Kelvin, di Darwin, che all'epoca stava sviluppando la teoria dell'evoluzione, aveva scoperto, si iniziavano a scoprire i fossili di dinosauri o comunque di specie completamente scomparse, e per le quali in realtà questi tempi non erano in grado di giustificare l'esistenza di questi esseri precedenti alla nostra conoscenza. Senza contare poi la crisi anche religiosa, visto che il Vecchio Testamento dava delle date estremamente brevi rispetto alla durata effettiva dell'universo. In realtà ormai noi conosciamo, abbiamo sviluppato degli strumenti che ci permettono di datare con maggiore precisione il nostro universo, per esempio il nostro universo ha una vita, un'esistenza già di 15 miliardi di anni, superiore ai 15 miliardi di anni, e per quanto riguarda il Sole, anche nel suo caso, la sua vita è molto più lunga di questi 20 milioni di anni previsti da Kelvin, perché il meccanismo con cui funziona il Sole non è quello termodinamico immaginato da Kelvin, ma è basato sulla fisica nucleare. Allora noi che cosa sappiamo del Sole? Sappiamo che al suo interno l'energia viene prodotta mediante i cosiddetti processi di fusione termonucleare, però la cosa interessante è che questa energia che viene prodotta al centro del Sole impiega quasi 200 mila anni per propagarsi all'interno del Sole e uscire dalla superficie del Sole sotto forma di radiazione luminosa e infrarossa, quella che poi noi riceviamo. Quindi in realtà quando noi guardiamo il Sole, quello che vediamo del Sole è il risultato di qualcosa che è successo circa 200 mila anni fa. Quindi se noi ci dovessimo chiedere domani il Sole funzionerà, non lo possiamo dire guardandolo, perché l'informazione che abbiamo è un'informazione di 200 mila anni fa. A essere corretti non sappiamo neanche se sta funzionando ora, guardandolo solo dall'esterno, non possiamo dire se sta funzionando. Però fortunatamente in questo caso invece, grazie alla proprietà dei neutrini, possiamo dire che sta funzionando. Allora perché i neutrini sono importanti in questo caso? Allora vi ho detto, il funzionamento del Sole si basa sulla cosiddetta fusione termonucleare, che nel Sole prevede la partecipazione di quattro protoni, i nuclei dell'idrogeno, che si fondono assieme a formare un nucleo di elio, ma contemporaneamente per rispettare diverse leggi di conservazione della fisica, in particolare la carica elettrica più il cosiddetto numero elettronico, assieme a questo nucleo di elio sono prodotti due elettroni positivi, due neutrini e energia. Questa energia è quella che viene poi trasmessa per convezione lungo, attraverso tutti gli strati del Sole, poi esce a un certo punto sotto forma di luce dalla Terra. Però vedete ci sono i neutrini. Allora per intanto per inciso, faccio un po' di pubblicità a questa forma di energia, se noi volessimo usare l'energia del Sole, riuscissimo a realizzare nel laboratorio, cosa si sta cercando di fare, perché ci sono diversi laboratori che stanno lavorando in questo senso, per coprire il fabbisogno energetico dell'Italia, sarebbero necessarie circa due tonnellate di idrogeno, quindi una quantità estremamente piccola rispetto ai consumi attuali di petrolio, di altre fonti di energia. Quindi vi dicevo, in questi processi compaiono i neutrini. I neutrini sono particelle, sono una delle tante particelle con le quali ormai ci raffiguriamo il mondo. La fisica ha raggiunto un paradigma che prevede che la materia sia costituita da mattoncini fondamentali che sono essenzialmente per il nostro universo, per il nostro mondo quotidiano, sono i protoni e i neutroni che si legano anche a formare i nuclei atomici, gli elettroni che ruotano attorno per formare assieme gli atomi. Questi sono quelli principali. Poi appunto ci sono queste particelle particolarissime che si chiamano neutrini. Tutte queste particelle stanno assieme, interagiscono fra di loro grazie alle forze fondamentali della natura. Al momento ne conosciamo quattro, due sono le sperimentiamo tutti i giorni, la forza di gravità la sperimentiamo tutti i giorni. Infatti dobbiamo stare attenti a non inciampare anche qui in questo labirinto il controllo della forza di gravità il quotidiano, oppure l'elettromagnetismo è di nuovo un'altra forza che ormai sappiamo usare. I nostri telefonini funzionano su questo principio, questo microfono, questo monito. Tutto si basa sull'elettromagnetismo. Nell'attacco ci sono altre due forze importanti che sono le forze nucleari forte e debole che invece regolano il comportamento della materia proprio a livello microscopico, a livello dei nuclei atomici. Ed è lì che il neutrino entra in gioco. Tra l'altro entra in gioco già in meccanismi quotidiani, noi non lo sperimentiamo, ma tanto per dirvi, quando voi mangiate una banana, vi mangiate tanti neutrini. Perché nella banana c'è un isotopo del potassio, che è il potassio 40, che è un emettitore di neutrini. Quindi non sono pericolosi, state tranquilli, però sono presenti, ci sono quotidianamente, anche al mercato li trovate. Comunque il neutrino entra in gioco già in un processo importante a livello microscopico che è il cosiddetto decadimento beta. Cioè c'è un processo che trasforma un nucleo in un altro. E' quello che gli alchimisti cercavano, quello che permetterebbe anche la trasmutazione del ferro in oro. Beh, in questo meccanismo, per poter conservare, in questo meccanismo in cui un protone si trasforma in un neutrone, scusate, un neutrone si trasforma in un protone, quindi per conservazione della carica elettrica viene emesso un elettrone, per conservare altre leggi della natura e deve essere emesso anche questa particella neutrina. Quindi questo neutrino partecipa in continuazione nella dinamica del nostro universo. E' una particella neutra, quindi non ha carica elettrica, non ha praticamente massa, non siamo ancora riusciti a misurare con precisione la massa. Qui c'è un carissimo collega che ha speso moltissimi anni anche in tematiche legate a questo, e interagisce con la materia attraverso questa forza microsuoppica che si chiama forza debole, che proprio per il suo nome si intende una forza poco intensa. Quindi gli effetti sono veramente minimi. Nell'esperienza quotidiana proprio non ce ne accorgiamo. E' talmente debole questa interazione che queste particelle possono attraversare tranquillamente strati di materia enorme. Alcuni neutrini possono tranquillamente attraversare tutta la Terra, attraversano il Sole. Quindi percorrono, per esempio, distanze che sono ben superiori alla distanza Terra-Sole senza essere disturbati, anche se è come se fossimo nella teatro, immaginate il teatro affollato, facciamo fatica a passare, ci sono le altre persone che ci impediscono il passaggio. Il neutrino ci attraversa. Anche adesso ci sono flussi di neutrini che arrivano dal Sole e ci attraversano tranquillamente come se noi fossimo proprio trasparenti a loro. L'idea del neutrino è stata concepita negli anni 30 da un fisico tedesco che è Wolfgang Pauli, che è uno dei padri della meccanica quantistica, ma il nome è stato dato da Enrico Fermi e ricorda il neutrone. È un oggetto neutro, però è estremamente piccolo, quindi è dato il nome di neutrino. Allora, adesso ritorniamo a questa domanda da cui sono partito. Abbiamo il nostro Sole, vi ho detto, al centro del Sole vengono questi processi di fusione termonucleare, viene prodotta l'energia, ma contestualmente vengono prodotti questi neutrini per i quali il Sole è trasparente, quindi loro escono, si muovono alla velocità della luce, quindi in pochissimi secondi arrivano sulla Terra. Quanti ne arrivano? Ne arrivano all'infinità. Se guardate il numero, qui sono 6 per 10 alla 14, 10 alla 14 vuol dire 600 milioni di milioni di neutrini per metro quadro, cioè su questo tavolo, che sono due metri quadri, ci sono mille, passano ogni secondo, stanno scendendo ogni secondo, 1200 milioni di milioni di neutrini e non sta succedendo niente, perché per i neutrini siamo proprio trasparenti. Però, ovviamente non siamo completamente trasparenti, in quantità di materia sufficientemente grande, qualche uno si ferma. Allora, qui vi ho riportato un valore di riferimento, se noi prendiamo 5 tonnellate di acqua, quindi 5 metri cubi d'acqua, in questi 5 metri cubi d'acqua si ferma un neutrino ogni secondo, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se qui, se questa stanza la riempissimo di acqua, qui avremmo, comunque vediamo un po', siamo un centinaio di tonnellate d'acqua, potremmo avere qui dentro, quindi un numero considerevole di neutrini si fermerebbe. Quindi, ecco, per tanto come facciamo a osservarli? Bisogna usare appunto dei materiali che possano, questo è andato troppo avanti, abbiate pazienti, bisogna usare dei materiali che permino il neutrino, ma diano anche un segnale, un segnale visibile, possibilmente. Allora, l'acqua è un materiale, è il materiale, è un materiale ideale, perché? Perché quando il neutrino si ferma, trasferisce la sua energia cinetica a una particella carica, essenzialmente a un elettrone, quindi lui si ferma e c'è un elettrone in movimento, compare subito un elettrone in movimento con la stessa energia che aveva il neutrino. Adesso, quando l'elettrone in movimento si trova in un materiale trasparente, questo elettrone intanto con queste energie è velocissimo, ha una velocità che è prossima a quella della luce e si trova in una condizione in cui nell'acqua va più veloce della luce, perché l'acqua è un mezzo, è trasparente alla luce, ma la luce la rallenta, quindi la luce si muove più lentamente nell'acqua rispetto che nel vuoto, quindi è possibile, nell'acqua che la particella carica si muova più velocemente. Succede quindi lo stesso fenomeno che succede a un aereo quando in aria si muove a una velocità superiore a quella del suono. Un aereo quando si muove a una velocità superiore a quella del suono produce il cosiddetto bang supersonico. Cosa vuol dire? Vuol dire che le onde sonore che genera l'aereo mentre si muove si fondono tutte assieme in modo coerente e il suono è presente soltanto su una superficie conica che si muove assieme all'aereo. Voi non sentite nulla prima, non sentite niente dopo, sentite soltanto quando questo cono attraversa, passa sulle vostre veche, sentite un colpo. se andate su YouTube e cercate per esempio i filmati degli atterraggi degli Space Shuttle sono molto belli perché ormai è diventata storia perché non sono più in funzione, però durante la fase di atterraggio a un certo punto si sente proprio un colpo secco che è il momento in cui lo Space Shuttle passa nella fase di velocità superiore a quella del suono e quindi fa questo schiocco come se fosse di frusta. Per questi elettroni succede la stessa cosa, però visto che sono particelle cariche loro lo fanno per il campo elettromagnetico e quindi si forma un fronte luminoso, un cono di luce che si propaga che segue la nostra particella. Questo cono ve l'ho rappresentato, l'ho colorato in blu perché la luce effettivamente è blu e sono privilegiate le frequenze, le massime frequenze permesse che possono propagarsi nell'acqua e l'acqua è trasparente fino al blu essenzialmente. Quindi tanto per farvi vedere il primo luogo dove questo fenomeno è stato osservato è in un reattore nucleare, questo è un reattore, quello che vi ho rappresentato e nel momento in cui si accende iniziano tutti i processi nucleari di fissione in questo caso nella fissione si producono anche elettroni perché si producono elementi radioattivi che poi decadono per decadimento beta e questi elettroni quando sono nell'acqua che è usato come moderatore emettono questa luce blu. La prima osservazione è stata fatta in un reattore nucleare il fisico che l'ha spiegato è un fisico russo di nome Cerenkov. Quindi se noi riusciamo a costruire un sensore usare dei sensori che siano in grado di vedere questa luce siamo a posto. Il problema è però che un reattore nucleare produce un'infinità di elettroni quindi avete visto c'è tantissima luce quando invece passa un neutrino la luce che produce è estremamente limitata quindi ci vogliono dei sensori estremamente delicati questi sensori si chiamano fotomoltiplicatori sono questi oggetti sferici questi bulbi che convertono i singoli fotoni luminosi in un impulso di corrente la sensibilità è tale che sono in grado di vedere una lampadina accesa sulla luna dalla terra se fosse tutto spento qualcuno accendesse una lampadina sulla luna questi sensori sono in grado di osservarla noi con gli occhi non siamo assolutamente in grado allora a questo punto però vi da costruire rivelatore come si fanno si prendono delle grosse quantità d'acqua questo che io vi sto rappresentando si chiama Super Kamiokande è un rivelatore che si trova in Giappone questi sono 50.000 tonnellate d'acqua 50.000 costruito realizzato in una miniera e la superficie laterale di questo di questo enorme cilindro è ricoperta di questi fotomoltiplicatori quindi praticamente creiamo una macchina fotografica bidimensionale perché vi faccio questa è la foto di Super Kamiokande vedete ogni puntino che vedete è un fotomoltiplicatore quindi questa diventa una macchina fotografica in due dimensioni che circonda tutta tutta l'acqua e allora adesso vi faccio vedere qual è il segnale questa è la luce prodotta da uno di questi elettroni che arriva dovrebbe essere un cono però è un cono affettato quindi un anello di cono che viene prodotto poi si propaga e va a colpire la superficie di questo cilindrone e quindi si forma un'immagine questa è una fotografia del passaggio di un elettrone generato da un neutrino che è arrivato dal sole tra l'altro l'orientazione dell'anello ci dice da dove arriva il neutrino perché praticamente è lungo l'asse la direzione di arrivo del neutrino è praticamente lungo l'asse di questo di questo anello quindi questi rivelatori non solo sono capaci di contare i neutrini ma anche di dire da dove arrivano quindi per esempio Supercamiocande è in grado di capire vedere l'effetto giorno e notte a seconda che si trovi dal lato del sole oppure si trovi dal lato opposto di questi rivelatori ne sono stati costruiti alcuni nel mondo ce n'è uno anche in Italia nei laboratori del Gran Sasso sono laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e qui c'è un in realtà finito l'anno scorso di funzionare ma c'è un rivelatore estremamente importante al quale Genova ha contribuito in modo determinante in particolare Giulio Manuzio e Marco Palavicini sono stati responsabili di questo esperimento l'esperimento si chiama Borexino e Borexino è stato proprio in grado di spiegare esattamente tutto quello che viene all'interno del sole ha spiegato tutti i processi adesso io non entro in dettagli perché è abbastanza il motore solare è abbastanza complicato perché ci sono dei processi collaterali a questa fusione termonucleare diretta che si chiamano processi catalizzanti che favoriscono la fusione nucleare e Borexino è stato l'unico rivelatore che è stato in grado di osservare questi processi catalizzanti quindi diciamo faccio un po' di propaganda a Genova scusatemi siamo a Genova siamo sempre mugugnoni però lavoriamo anche bene ecco quindi devo dire che sia l'Università di Genova che la sezione di Genova degli NFN hanno contribuito in modo determinante a questo tipo di lavoro allora adesso che abbiamo visto la domanda principale adesso vediamo come poter utilizzare questi neutrini per altri studi allora c'è un altro momento della vita di una stella molto importante dove compaiono di nuovo i neutrini ed è il momento in cui la stella muore allora com'è la vita della stella la stella conduce una vita abbastanza costante per la maggior parte della della sua esistenza nella quale essenzialmente è costituita da idrogeno che viene utilizzato per la fusione termonucleare chiaramente man mano che l'idrogeno viene consumato viene sostituito da elio che è il prodotto della fusione quando a un certo punto la quantità di idrogeno inizia ad essere troppo poca troppo poca per poter garantire il processo di fusione quindi la stella inizia leggermente a raffreddarsi ma soprattutto a contrarsi perché nella stella la stella si trova in un equilibrio dinamico perché c'è la forza di gravità che vuole schiacciarla vuole comprimerla e c'è l'energia generata dalla fusione termonucleare che invece fornisce energia cinetica a questo plasma in modo tale che tenda a espandersi quindi la stella sta in equilibrio quando viene a mancare la parte cinematica la gravità non manca non viene a mancare quindi quella domina la gravità e la stella si contrae nel momento in cui si contrae aumenta la sua densità e aumenta di nuovo la sua temperatura allora la cosa interessante è che a questo punto anche la stella diventa in grado di bruciare anche l'elio l'elio di nuovo diventa un combustibile buono e attraverso diversi alcuni meccanismi la stella è in grado di produrre tutta una serie di elementi chimici il carbonio l'ossigeno il silicio fino al ferro quindi tutti gli elementi di cui anche noi siamo composti nascono dai processi di combustione della prima generazione di stelle perché dalla nascita del nostro universo diciamo dal Big Bang nel Big Bang si sono formati solamente idrogeno ed elio tutti gli altri elementi si sono potuti formare solamente all'interno della della stella e soprattutto alla fine negli ultimi milioni di anni della vita la stella cioè la stella vive una vita di miliardi di anni nell'ultima fase un milione di anni centomila anni ritrasforma tutto e produce tutti tutti gli elementi chimici che noi conosciamo fino al ferro fino al ferro e poi una volta che è arrivata a formare il ferro la stella non è più in grado non ha più combustibile quindi collassa in questo collasso la 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 maggiore parte del materiale della stella cade verso il centro una parte viene espulsa e e viene osservata sotto forma della di supernova viene quello che quello che si chiama supernova o nova cioè la stella rilascia una quantità di energia luminosa in un in un tempo estremamente breve poche ore pochi giorni però il nucleo quello che rimane che essenzialmente è ferro subisce un'ulteriore contrazione dovuta alla forza di gravità viene proprio schiacciato arriva alle densità nucleari non a quelle atomiche le densità nucleari arriva in una condizione tale per cui i protoni e gli elettroni che sono presenti fanno il meccanismo inverso che facevano nel decadimento beta cioè si uniscono a formare neutroni con l'emissione di neutrini quindi quando una stella muore quello che rimane è un enorme nucleo fatto di neutroni quella che si chiama stella neutroni e un flusso di neutrini che viene sparato via allora se i nostri liberatori per esempio Super Camilocande che vi ho fatto vedere prima è stato in grado di osservare questi neutrini anche lì abbiamo imparato questo nel 1987 abbiamo imparato che osservare questi neutrini ci può aiutare per trovare queste supernove poi le supernove sono importanti perché sono importanti dal punto di vista scientifico nella vita quotidiana no però dal punto di vista scientifico sono molto importanti perché sono condizioni della materia molto diverse da quelle quotidiane quindi lì c'è la possibilità di capire se ci sono forze nuove o se la nostra idea di universo funziona oppure no se bisogna correggerla quindi sono un laboratorio importante per la conoscenza del nostro universo quindi vi dicevo una supernova è stata osservata una sola non ne abbiamo altre finora è stata osservata nel 1987 perché ne è stata osservata una sola perché sono molto rari questi fenomeni la media è una al secolo per galassia per galassia quindi la nostra galassia quella del secolo scorso ce la siamo giocata il secolo nuovo è iniziato però dura un po' quindi siamo appena all'inizio quindi in questo secolo non abbiamo ancora non abbiamo ancora osservato comunque quello quello che è successo quello che è successo appunto il 23 febbraio del 1987 nella nube di Magellano quindi vicino alla parte proprio contigua alla nostra galassia c'è stata questa questa esplosione di questa stella con il meccanismo che vi ho spiegato e questi rivelatori di neutrini che erano presenti che all'epoca erano disegnati per studiare il sole non si pensava assolutamente a studiare le supernove erano pensati per studiare il sole e hanno osservato questi eventi tra l'altro hanno permesso anche di attivare poi tutti i telescopi presenti sulla Terra per andare a osservare l'evento perché la luce è arrivata 20 ore dopo quindi poter osservare i neutrini che arrivano proprio dal centro di nuovo e arrivano prima di tutto il resto aiuta tutto il resto della comunità scientifica per prepararsi per osservare il resto dell'evento la stessa cosa sta succedendo con le onde gravitazionali è una cosa estremamente importante perché pensate che questa immagine che vi ho rappresentato questa immagine è l'equivalente sulla volta celeste della punta del mignolo quindi pensate un telescopio come facciamo a puntare un telescopio in quella direzione o siamo fortunatissimi ma proprio strafortunati oppure qualche luno è riuscito con altre informazioni a dirci guarda lì perché fra un po' succede qualche cosa ecco osservare i neutrini aiuta in questo aiuta a dire guarda lì sta per succedere qualcosa e la stessa cosa è avvenuta avviene per esempio con le onde gravitazionali si sta facendo la stessa cosa però non è argomento di questo seminario quindi io non ne parlo poi inviterete qualche luno a parlare e ovviamente poi quello che è rimasto è questo oggetto particolarissimo questo doppio anello rosso vedete questo è quello che è rimasto di questa supernova questo è un oggetto molto particolare ve lo spiego perché ci serve anche per dopo vedete che ci sono due anelli rossi allora perché ci sono questi due anelli rossi perché la stella neutroni che sta al centro non è un oggetto morto è un oggetto che continua a emettere energia però questa volta la emette in una direzione ben precisa la emette lungo i poli perché questo è un oggetto con un campo magnetico estremamente intenso e praticamente è diventato un acceleratore di particelle e accelera le particelle però dove dove ci sono linee del campo magnetico lungo i poli polo sud e polo polo nord e polo sud quindi ricordiamo anche che tutti gli oggetti celesti girano nessuno sta fermo sono tutti in rotazione attorno a se stesso quindi per esempio anche sulla terra noi abbiamo un asse in rotazione e abbiamo anche un polo magnetico che però attenzione non corrisponde con l'asse di rotazione quindi se io tiro l'asse che unisce i poli magnetici e lo confronto con l'asse di rotazione i due assi sono disassati nel caso di questa stella a neutroni succede la stessa cosa anzi qua in modo ancora più accentuato sono molto disassati quindi dovete pensare che la stella ruota attorno al suo asse di rotazione e quindi il campo magnetico gira in questo modo attorno all'asse e questo campo magnetico questo polo magnetico è la direzione in cui vengono accelerate le particelle quindi queste particelle escono lungo un cono e questo cono va a colpire tutta la materia che è rimasta che è stata espulsa dalla stella che si trova ormai a distanze notevoli e quando la colpisce ionizza o attiva gli elettroni gli atomi che poi riemettono luce quindi quei due anelli che vedete è la luce emessa dalle polveri che stanno intorno alla stella quando vengono colpiti da questo pennello di particelle sparato dall'acceleratore della stella neutron adesso quindi abbiamo visto anche questo meccanismo adesso vediamo il problema principale che abbiamo allora questa è un'immagine di tutto il nostro universo tutta la volta celeste la linea orizzontale è la nostra galassia il centro della nostra galassia è al centro di questa di questa rappresentazione qui non sono riportati le stelle o gli oggetti che emettono luce qui sono riportati gli oggetti che emettono raggi gamma cioè emettono radiazione elettromagnetica di altissima energia quindi sono una rappresentazione di eventi nel nostro nella nostra galassia è estremamente energetici catastrofici anche perché sono importanti perché c'è l'esterno della nostra atmosfera non è vuoto ma è attraversato da particelle di altissima energia cioè quando all'inizio del novecento si è iniziato a studiare la radioattività si facevano esperimenti si mandavano dei palloni in atmosfera per capire come cambiava la radioattività si pensava che la radioattività fosse generata dagli elementi presenti nella crosta terrestre quindi si pensava che man mano che uno si allontanava dalla superficie terrestre la radioattività diminuisse invece si scoprì che la radioattività aumentava se andiamo fuori dall'atmosfera la radioattività presente cioè le particelle ionizzanti presenti sono così tante che in questo momento per esempio un viaggio umano di uomini dalla Terra a Marte è impossibile perché un astronauta riceverebbe così tante radiazioni nel periodo nel tempo di viaggio andato e ritorno che muore non riesce a sopravvivere ecco quindi all'esterno dell'atmosfera l'ambiente è completamente ostile per l'uomo da questo punto di vista quindi un problema importante è capire dove sono chi è che genera questi raggi cosmici finora non siamo riusciti a trovare una soluzione a questo qui sono rappresentate tutte le possibili sorgenti in particolare faccio osservare appunto questa linea orizzontale quello che si chiama il piano galattico la nostra galassia è un oggetto piatto è una girella piatta noi siamo sul bordo di questa girella ma in mezzo non riusciamo a vedere dall'altra parte perché in mezzo ci sono tutte le stelle che compongono la nostra galassia quindi c'è tutta una parte della nostra stessa galassia che a noi è ignota cioè perché è nascosta non la possiamo vedere e di nuovo i neutrini ci possono aiutare perché i neutrini invece sono in grado di attraversare tutta questa materia quindi capiste anche in questo caso l'importanza di queste particelle allora vediamo adesso vi presento un attimo il paradigma di cosa riusciamo a vedere dalla terra noi siamo abituati a vedere usando i telescopi i telescopi sono pensati per essenzialmente i primi vedevano la luce Galileo ha iniziato a costruire un telescopio per vedere la luce poi però abbiamo imparato che non c'è soltanto la luce che è radiacione infrarossa ci sono le microonde ci sono le onde radio ci sono i raggi X ci sono i raggi gamma ci sono tantissime manifestazioni della luce ognuna di queste manifestazioni ci porta un'informazione allora per esempio qui io vi riporto l'immagine dello stesso corpo celeste visto attraverso le onde radio l'infrarosso e la luce visibile e vedete che si vedono caratteristiche completamente diverse del nostro oggetto quella è una protogalassia e vedete che se guardiamo le onde radio c'è qualche cosa questa galassia è piatta le onde radio vedono qualcosa che invece è sul piano perpendicolare alla galassia quindi questa galassia sta emettendo c'è un acceleratore centrale un buco nero che sta sparando particelle verso l'alto e verso il basso se noi invece andiamo a cercare cerchiamo di osservare la radiazione invece più energetica ci troviamo in difficoltà perché il nostro universo non è vuoto è permeato di quello che si chiama il fondo il fondo cosmico a microonde e questo fondo cosmico rende l'universo opaco soprattutto ai raggi gamma quindi mentre per le altre per le altre forme di luce noi riusciamo ad arrivare praticamente fino a pochi secondi dalla nascita dell'universo nel caso dei raggi gamma no siamo limitati possiamo vedere soltanto oggetti che sono vicini e allora oggetti che sono vicini ci riduce la nostra capacità di osservazione perché possiamo vedere quello che succede nella nostra galassia nelle galassie vicine ma quello che succede in galassie più lontane facciamo difficoltà a vederlo allora in una galassia che cosa può succedere? ecco questa è una rappresentazione di uno dei buchi neri più grossi che conosciamo questo credo che sia costituito a una massa che sono 20 milioni la massa del nostro sole quindi un oggetto estremamente grosso è un'immagine pittorica ecco però questo oggetto questo buco nero è un è un è un oggetto dotato di massa quindi esercita una forza di gravità e lui mangia mangia le stelle mangia le stelle questo oggetto ingloba stelle con una rapidità notevole ne ingloba una credo in pochi giorni ma una velocità di conglobamento di pochi giorni e ovviamente nel momento in cui ingloba una stella riemette ricede una parte dell'energia lungo questi due getti nelle due direzioni allora questi due getti sono importantissimi sono proprio quelli che i fisici e gli astrofisici pensano essere gli acceleratori di tutti i raggi cosmici che noi vediamo allora quindi se proviamo un attimo a immaginare questo queste particelle che vengono emesse interagiscono con la materia che vi sta attorno e come nel caso della stella neutroni che vi ho fatto vedere prima in quel caso illuminava viene emessa luce invece in questo caso possono essere prodotte tante particelle viene prodotta luce vengono prodotti i fotoni quindi i raggi gamma e così via però anche particelle cariche e neutrini quindi necessariamente da questi oggetti arrivano queste tre forme di energia però quando proviamo ad osservarle iniziamo ad avere un po' di problemi perché intanto il nostro universo è permeato anche di campi magnetici la nostra galassia ha un campo magnetico piccolo ma un campo magnetico il risultato qual è? che le particelle cariche vengono deflesse quindi se io misuro osservo una particella carica e provo a guardare indietro dalla traiettoria della mia particella carica non arriverò alla sorgente perché quella particella carica ha fatto una curva invece se io voglio trovare la posizione l'oggetto nel cielo devo usare un'informazione che si muove in linea retta possibilmente quindi le particelle cariche non le possiamo usare possiamo usare i neutrini e i raggi gamma e va benissimo quindi se abbiamo una sorgente nella nostra galassia siamo tranquilli se abbiamo una sorgente invece che sta lontano da un'altra parte in un'altra galassia invece abbiamo il problema che questi raggi gamma come vi ho detto prima possono interagire con questo fondo presente nell'universo di radiazione a microonde e non arrivano più sulla terra quindi rimaniamo ciechi quindi l'unico modo per poter osservare questi oggetti è proprio tramite l'osservazione dei neutrini questi neutrini però hanno un'energia veramente altissima e quindi non possiamo più usare quei rivelatori come super camiocande che vi ho illustrato prima perché quello è piccolo abbiamo bisogno di rivelatori che sappiano fermare i neutrini di altissima energia i neutrini di altissima energia quando si fermano producono un elettrone pesante che si chiama muone e questo muone si muove nell'acqua per diversi chilometri prima di fermarsi quindi per poter osservare questi questi neutrini abbiamo bisogno di masse d'acqua molto grandi cioè abbiamo bisogno di volumi dell'ordine del chilometro cubo questi volumi ovviamente non li troviamo in un laboratorio in una caverna non abbiamo la possibilità quindi le uniche possibilità che abbiamo sono o nei ghiacci polari o in fondo al mare in entrambi i casi abbiamo anche un altro vantaggio perché se andiamo in fondo al mare la superficie la parte del mare che sta sopra al rivelatore fa da schermo a tutte le altre a tutti gli altri raggi cosmici che invece possono arrivare possono dare fastidio al nostro rivelatore adesso qui vi faccio appunto un esempio immaginate questa è la è la nostra una sezione della terra la crosta della terra il mare ho esagerato questo è un pianeta completamente coperto di acqua insomma quel rettangolino nero è il nostro rivelatore appoggiato sul fondo del mare e lui può osservare questi elettroni pesanti questi muoni che possono arrivare o dai raggi cosmici primari quindi arrivano questi arrivano anche adesso su di noi però questi sono informazioni sbagliate perché non vengono dal neutrino oppure quelli che vengono proprio generati dai nostri neutrini che ci interessano se osservate la geometria di questo disegnino il rivelatore non può guardare verso l'alto perché da questo lato arrivano questi questi elettroni pesanti che sono ormai generati in atmosfera questi rivelatori guardano verso il basso questi telescopi per neutrini hanno la caratteristica che guardano dalla parte che per noi è sbagliata guardano in basso dall'altra parte e per esempio un rivelatore che stiamo costruendo in Europa guarda dove guarda verso il polo sud dalla parte del polo sud ed è importante perché nell'emisfero boreale si trova il centro della nostra galassia quindi un telescopio dei neutrini che si trova in questo emisfero può vedere cosa succede nel centro della galassia allora vi dicevo non possiamo più usare questa idea di un volume contenuto in un cilindro dove abbiamo messo un ccd intorno allora il nostro schermo ccd per ricostruire l'immagine lo mettiamo dentro al volume d'acqua lo realizziamo realizziamo un sensore a tre dimensioni non più a due dimensioni come quello che vi ho fatto vedere che viene usato per i neutrini di bassa energia ed ecco quindi la struttura tipica di questi di questi rivelatori sono dove voi dovete immaginare dei volumi molto grandi di in questo caso ghiaccio questo è ice cube che si trova esattamente al polo sud dei grossi volumi dove vengono inserite delle griglie di sensori ottici di questi fotomoltiplicatori che vi ho fatto vedere quindi non sono più disposti ai bordi ma sono proprio infilati all'interno sono griglie regolari qui è riportata anche la tour Eiffel per farvi avere un'idea della dimensione di questi oggetti e questo è quindi il paradigma che noi utilizziamo questo invece è una rappresentazione del chilometro cubo quello che stiamo costruendo in Europa vedete che è sempre una griglia tridimensionale il neutrino arriva da sotto quindi dall'emisfero boreale a un certo punto nella crosta terrestre interagisce viene fermato viene sostituito da questo elettrone pesante e lui quando attraversa l'acqua produce questo cono di luce che poi noi osserviamo tra l'altro l'osservazione è molto semplice perché questa è un singolo componente del nostro rivelatore e quando questo cono di luce colpisce questo cono praticamente viene come se voi lo affettaste dalla affettatrice del salame e la la fetta che si forma è una iperbole ha una figura geometrica molto semplice quindi noi possiamo rappresentare questi iperboli questo è il risultato di una nostra misura del passaggio di uno di questi di questi neutrini la forma dell'iperbole la sua inclinazione ci dice subito da dove arriva perché di nuovo questa curva ha un'asse centrale e quell'asse centrale ci dà proprio la direzione di questi neutrini quindi questi oggetti avendo questa struttura tridimensionale ci permettono proprio di farli funzionare come dei telescopi perché noi siamo in grado di tracciare indietro sulla volta celeste la posizione il punto di partenza di questi di questi neutrini quindi possiamo poi associarli con degli con degli eventi qui rapidamente una mappa dove sono sistemati questi rivelatori ce n'è uno appunto esattamente al polo sud si chiama Ice Cube ce n'è un altro in costruzione in Russia ma purtroppo con le questioni che abbiamo guerra e tutto quanto siamo in difficoltà anche con i contatti con loro e poi i nostri due rivelatori che si chiamano KM3 net che vengono costruiti nel Mediterraneo tra l'altro uno è in Italia vicino a Capopassero tra Sicilia e Malta e l'altro a Tolone quindi qui vicino vi faccio rapidamente vedere la tecnica di costruzione perché non è banale per esempio nel caso di Ice Cube questi fotomoltiplicatori sono contenuti in sfere di vetro e poi le sfere vengono calate in pozzi che sono scavati nel ghiaccio questi pozzi hanno una profondità di 2000 metri ognuno di questi pozzi è scavato per una profondità di 2000 metri vengono deposti i rivelatori e poi il tutto viene di nuovo riempito con acqua in modo tale che si riformi il ghiaccio tra l'altro questa costruzione ha avuto un risultato collaterale perché nel momento in cui sono stati scavati questi pozzi fino a 2000 metri si è scoperto che a una certa profondità c'è uno strato di polveri con iridio che sono il segno il segnale del famoso del famoso impatto di un meteorite quello che ha generato anche la scomparsa dei dinosauri tra l'altro questo strato di polveri esattamente a metà del rivelatore quindi sta rovinando il funzionamento del rivelatore perché è come se abbiamo un rivelatore tagliato in due nel caso invece del chilometro cubo noi lo costruiamo in mare e questi oggetti sono queste noi le chiamiamo stringhe queste file di rivelatori di 18 rivelatori sono ancorati a una profondità di 3000 metri e sono alti circa 800 metri ognuna di queste di queste stringhe è alta 800 metri quindi immaginate anche la complessità di mettere questo oggetto in mare allora non si può metterlo così allora come 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 facciamo lo avvolgiamo su un gomitolo come se fosse immaginate che questo sia un filo un filo di lana lo avvolgiamo su un gomitolo metallico a formare questo oggetto questo oggetto viene depositato in fondo al mare e poi con un robot controllato da remoto viene liberato e per la spinta idrostatica pian pianino si svolge e tutti i rivelatori si pongono si dispongono alla distanza giusta questo è il modo con cui lo facciamo adesso poi alla fine corro alla fine però ci sono bene allora questa è come sarà fatto questo telescopio che stiamo costruendo in Europa quello a capopassero ha questa struttura questa piantina cioè ogni puntino di questa mappa rappresenta il punto di ancoraggio di una di queste stringhe e al momento noi abbiamo i soldi per costruire metà il primo circoletto metà di questo rivelatore che dovrebbe essere completato tra tre anni è già in funzione abbiamo il 20% del rivelatore è già stato messo in mare ed è in funzione poi uno simile un po' più piccolo verrà realizzato vicino a Tolone e di nuovo anche in questo caso Genova sta contribuendo in modo determinante sia l'università che l'INFN io tra l'altro sono stato anche per quattro anni il responsabile di tutta la collaborazione quindi ho coordinato proprio la fase di qualifica di tutta la strumentazione perché tenete presente questo oggetto deve funzionare per 20 anni e non può non li possiamo fare manutenzione perché a 3000 di metri di profondità nessuno può andare ad aggiustarlo quindi tutta la strumentazione deve essere qualificata per poter funzionare senza rompersi per 20 anni è un problema non da poco ve lo posso garantire ecco quindi che cosa possiamo fare qui ho riportato di nuovo la mappa di prima quello che fa IceCube quindi vi dicevo noi possiamo con questi rivelatori trovare la direzione di arrivo del neutrino quindi guardare indietro e riportare la posizione sulla volta celeste e dire capire se è arrivato da uno di questi sorgenti che già conosciamo allora IceCube con questo problema che vi ho detto purtroppo ha questa risoluzione cioè questi dischetti bordati di bianco è la precisione con cui IceCube è in grado di dire guarda la sorgente è lì allora vedete che cioè è in grado di dire è in grado di osservare i neutrini IceCube li sta già osservando però purtroppo non è in grado ancora di associare questi neutrini con una sorgente con nota quindi ha un problema non è ancora un osservatorio invece chilometro cubo ha questa grande capacità ha una capacità di puntamento elevatissima nel caso vedete risoluzione per neutrini del mu Km3 non ci è riportato niente è un puntino microscopico la risoluzione angolare cioè chilometro cubo è in grado veramente di dire lì c'è la sorgente quindi tra tre anni noi saremo in grado proprio di fare astronomia di neutrini in più potendo lavorare insieme agli altri osservatori dei neutrini quindi IceCube ma anche Supercaniocande e gli altri liberatori che sono ancora presenti che sono in fase di costruzione potremo osservare i neutrini della supernova e facendo un'analisi congiunta di tutti i neutrini osservati contemporaneamente dai liberatori saremo in grado di dire dove sta avvenendo l'esplosione e quindi informare tutti i telescopi dell'ottico dell'infrarosso e così via che in quel punto della volta celeste in 20 ore qualche cosa succederà quindi infatti c'è una rete già in funzione di tutti gli osservatori astronomici che si scambiano in continuazione le informazioni i cosiddetti alert le allerte che permettono a tutti gli osservatori di sincronizzare le osservazioni in direzioni ben precise e detto questo adesso vi faccio vedere come funziona un'operazione di messa in mare quindi questo è un piccolo filmato qui è un'operazione fatta a Tolone abbiamo bisogno di due di due navi queste navi devono essere posizionate al centimetro quindi hanno un sistema di posizionamento questo è il gomitolo famoso che viene calato in mare a una profondità in questo caso di soli 2000 metri i 3000 metri li raggiungiamo a Capopastro qui raggiungiamo 2000 metri però ripeto deve essere posizionato con la precisione di pochi centimetri perché la nostra mappa la nostra piantina vuole i punti ben precisi adesso questo oggetto è entrato in mare ora arriverà in fondo al mare ora l'immagine salterà lo vedremo in fondo al mare e vedrete che c'è un braccio meccanico che tira uno spaghetto che libera il meccanismo che aziona il meccanismo di liberazione eccolo qua vedete che c'è uno spaghetto in tiro adesso viene tirato si è liberato il nostro gomitolo che pian pianino sale e mette in posizione tutti i nostri sensori ecco questo è uno dei sensori e così via pian pianino finisce poi alla fine il gomitolo arriva in superficie e viene recuperato e può essere utilizzato per operazioni successive vedete c'è la boa che li tiene in verticale e qui viene 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 recuperato e poi la cosa carina è che queste operazioni avvengono sempre con degli spettatori molto graditi questo è un branco di globicefali che si è fermato davanti alla prua della nave curiosoni a vedere cosa succedeva bene io con questo ho finito la mia la mia esposizione vi voglio soltanto dire che l'INFN pubblica una visto che parliamo anche di comunicazione una rivista scientifica che si chiama Asimmetrie questo è il sito www.asimmetrie.it sono numeri tematici il 29 dedicato ai neutrini quindi ci sono questi argomenti più altri sempre relativi ai neutrini grazie per l'attenzione grazie per l'affascinante via del popolo e questi neutrini cosa fate anche per studiarli domande? hai ammutato a rimanere attaccato c'è un diciamo c'è un cosiddetto peso morto nel caso della strumentazione in Sicilia sono delle barre di pietra ladica ok usiamo materiale materiale locale sì sì è un peso quindi non si sposta una volta messi in questi restano assolutamente poi non solo non ci sono noi cerchiamo ovviamente dei posti tranquilli dei siti dove dove sistemare questi rivelatori sono stati studiati per diversi anni quindi sono sono luoghi molto tranquilli dove per esempio non ci sono correnti d'acqua che è molto importante il capopassero è il posto ideale Tolone un po' meno perché siamo sulla foce del Rodano quindi lì di tanto in tanto ci sono dei dei fenomeni stagionali però sono tutti sotto controllo ho capito grazie di nuovo per veramente estremamente stimolante vengono tante domande in mente se riesco a farne una intanto l'energia dei neutrini a cosa è associata non credo l'energia cinetica perché vanno velocità della luce la frequenza come gli fotoni come questa energia in cosa risiede in realtà in realtà energia cinetica energia cinetica poi essendo particelle microscopiche sono sono descritte anche dalla meccanica quantistica per cui a questa energia cinetica associata anche una frequenza quindi loro possono essere descritti anche come un'onda a cui associata una frequenza che è direttamente legata a questa energia cinetica però essenzialmente energia cinetica loro hanno una massa estremamente piccola quindi sono particelle ultra relativistiche per cui la relazione che c'è fra la velocità della particella e la sua energia cinetica è una relazione relativistica ovviamente che non è un mezzo mv quadro in cui siamo abituati è un po' più complessa però la relazione è sempre tra velocità energia cinetica quindi hanno una massa e quindi vanno a velocità più bassa loro vanno a velocità leggermente più bassa di quella della luce grazie vorrei chiedere una cosa oltre a queste osservazioni astronomiche c'è anche qualche collaborazione esperimento sulla natura dei neutrini ce ne sono moltissimi perché ci sono stati per esempio nel passato c'è stato un esperimento al Gran Sasso che si chiama Opera che ha studiato proprio la natura dei neutrini perché il neutrino è una particella a mio avviso affascinante in natura al momento ne conosciamo tre neutrini distinti poi visto che si parla di materia antimateria abbiamo tre neutrini e tre antineutrini allora mentre tutte le altre particelle sono non cambiano la loro natura scusa visto che stiamo parlando di anche di LGBT problemi la maggior parte delle particelle sono binarie diciamo cioè hanno un sesso ben definito i neutrini no non hanno un sesso definito l'ipotesi di Montecorpo quella è aggiuntiva e un'altra ancora qui visto che la massa è estremamente piccola ai neutrini è permessa una certa ambiguità cioè nel senso che un neutrino può essere prodotto quando viene prodotto a una natura sono tre possibili tipi quindi viene prodotto come un certo tipo quando inizia a muoversi liberamente ha la libertà di cambiare la natura e quindi quando io lo osservo potrei osservarlo anche con una natura diversa da quella con cui è partito infatti questo è stato il grosso problema all'inizio dell'osservazione dei neutrini solari perché uno si aspettava che venissero prodotti che arrivasse dei neutrini cosiddetti dell'elettrone perché sono quelli che vengono prodotti nella fusione nucleare invece si osservavano neutrini che non erano neutrini dell'elettrone i rivelatori erano stati pensati per vedere quei neutrini e contavano meno neutrini di quelli che ci si aspettava è stato un grosso problema per diverse decine di anni poi finalmente sono stati pensati degli esperimenti che permettevano di osservare tutti i tipi di neutrini l'esperimento principale è stato fatto in Canada si chiama SNO che vuol dire Sudbury Neutrino Observatory perché Sudbury è una miniera d'oro del Canada quello è stato il primo osservatorio per neutrini pensato per rivelare neutrini di qualunque natura e lui per primo ha contato correttamente i neutrini che arrivavano dal Sole perché li ha contati tutti tutti gli altri contavano soltanto quelli dell'elettrone e quindi sbagliavano il conteggio è stato un momento un po' un po' critico è andata un po' in crisi la nostra conoscenza del funzionamento del Sole